Musica Raccontando la storia della tradizione calzaturile italiana Fabi è un gruppo famiglia nato nel 1965 in Le Marche, il paese dell'Italia e l'obiettivo principale della società è di mantenere il grande heritaggio dell'italiana tradizione calzata. Poi dall'evoluzione che c'è stata negli anni 70 a livello di volumi, di colori, di fantasia e di proposte. La collezione Fabi è dedicata alle 60s e alle 70s di Liverpool e Londra. C'è una parte delle belle belle della collezione e della stile di Londra dei 70s. Per il Fabi è arrivato fino ai 80s e 90s con una grande tradizione di Fabi. Basicamente il Fabi Flex Goodyear 102 in diversi tipi di shoes, sia classici e sporti, come i newi Flex Goodyear sneakers. Per il Fabi Flex Goodyear 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 Per il Fabi customer Planissa Per il Fabi Rieco Per il Fabi Cleanse